Ciao a tutti! In questo video vi mostrerò come fare il cane con i palloncini modellabili. Il cane è una delle figure base, infatti è molto veloce da fare e anche molto semplice. Per realizzarlo abbiamo bisogno di un solo palloncino. Potete scegliere il colore che preferite. Il palloncino va gonfiato lasciando sgonfia una parte di 6 dita. Allora, la prima parte da fare è quella della testa. Calcolate circa 4 dita e fate una versione. Poi dobbiamo fare le orecchie. Per fare le orecchie dobbiamo fare due palline rotonde. Una E due Queste due palline rotonde poi vanno unite in questo modo e va fatta una versione. Ecco qua, finora abbiamo la testa del cane e le orecchie. Poi il collo prendiamo una distanza di 4 dita e facciamo una versione. E per fare le gambe prendiamo una distanza ancora di circa 4 dita, questa è la prima gamba e anche la seconda gamba. E andiamo ad unirla in questo modo. Ora è il momento del corpo. Potete calcolare la distanza che preferite. Se facciamo un corpo più lungo ci risulterà un passotto. Mentre se teniamo un corpo più corto un'altra razza di cane. Poi è il momento di fare le zanche posteriori, lunghe come quelle anteriori, quindi 4 dita. Ecco la prima gamba e la seconda. Anche questa volta uniamo le due gambe in questo modo, per una versione. E infine ci rimane la coda. Possiamo scegliere di lasciare la coda lunga, così com'è oppure di accorciarla. Quindi decidete la lunghezza della vostra coda. E con le forbici tagliamo tutta la parte nel senso. Facciamo uscire l'aria e facciamo un nodo. Poi basterà tagliare la parte che c'è rimasta a sbocchio. Ed ecco qua il nostro cagnolino. Spero che questa figura vi sia piaciuta. Sicuramente riuscirete anche voi a farla. Ciao a tutti, al prossimo video!